Vado a dire, a voi arriva lo stipendio grazie al fatto che molta gente ha pagato, ma voi dovreste tirare un giulcastro solo per rispetto e noi andiamo a casa, però dovreste tirare un giulcastro tutti, allora per rispetto possiamo anche andare a casa, questo. Non basta il cazzo, non basta il cazzo, non basta il cazzo, non basta il cazzo, finiti ragazzi.